Ciao, dopo l'Aldi si riuscite il palazzo, il palazzo femminile dopo l'Aldi, con l'elevator in fuori. Si arriva alla porta palazzo e durante la mattina c'è la concierge. Inizialmente la porta è aperta, se trovi la porta è aperta, dovete chiedere a noi. Siamo aperta per voi, in un momento, con un dispositivo. Siamo aperta la porta palazzo per voi. Dopo potete entrare e dovete andare all'interno immediatamente. Qui potete trovare la luce, se arrivi alla mattina, in la mattina lato. E la seconda porta, dopo la lettera box, è la B&B. Quindi, avete ricevuto un codice. Non si riuscite, qui trovi un label che ti ricorda l'extraccio che hai bisogno di usare. E, prima di tutto, toccate il palazzo. Quindi, il palazzo è iniziato. Qui potete entrare il codice, dopo che puoi imparare il simbolo LOK e scrivete il palazzo. E puoi entrare in l'appartamento. Qui è la luce? Qui è l'interno? Qui è l'interno dell'attro del το. Ma c'è un sensore. Quindi, le luce è automatico. So, here you have the entrance of the apartment, so we can start our tour, back the entrance door, the license, and here you can find the light command if you are in need. After a moment, the light switch off, so you have to walk in the apartment. Okay, here you can find some information about public transportation, rent, car, taxi, or the metro, or some information about the main attraction of Milan or the center of Movida or historical center in Milan. The first room you find on the right in the hall is the room 101, room Gabriella, double room economy. Where is the light? Where is the key? The key is on the door. So, you take the key and you enter in your room. This is your bedroom, and there is also a table, there is a frozen air condition, and there is a smart TV, and here there is the wardrobe. Okay, so, this is the small and economic room. I do, ah, come for you. Okay, um, from the economic room, you can access, for a simple, ah, to the, ah, the living, and, ah, and also, from the living, ah, you can access, ah, to the kitchen. In the kitchen, ah, there is, ah, everything, ah, and, ah, you can cook, ah, and also, you can go to, ah, to our veranda, from, ah, a small room, ah, we have, ah, a veranda, ah, with, ah, a number of seats, ah, or, ah, you can have, ah, breakfast, ah, or, ah, a kitchen, ah, or, ah, dinner, ah, and, ah, this is our garden. And, ah, we continue on the visit. Okay, this is the economic room. Ah, when you have, ah, finished, and, ah, you do check out, please put the key back, ah, where you take, okay? Allora, ah, if we continue on the hall, ah, here, you find the, the breakfast, ah, and that, ah, is free for you, ah, and, ah, in, ah, here, there is the, ah, the, the bathroom, so, ah, also, the light, ah, is, ah, automatic, ah, Qui c'è il bambino, qui c'è il bambino, qui c'è il bambino, qui c'è il bambino e se non fermi la luce, la luce ferma. Ok, l'autre, si possiamo fermare, qui si va nel bambino, tu devi fermare, qui, e se il bambino è occupato, tu devi mettere in questo modo, per esempio, e tu entra in il bambino. L'autre room è room 102, room Gianfranco, qui è l'endolo, è double room, view garden. Also, you find the key here, so take the key, and in the room, this is a big just room of the house, you have also the table, a television, and an air condition. And from this room, you can go to veranda, or you can have the view garden, ok, in this way, so you can reach veranda, you have the view garden from your room, and you can decide to read something about Milan, for example, relax yourself in veranda, or you can reach the kitchen, again, and this is the living, and try to cook something in the kitchen, for example. So, this is the tour, sometimes the gas is closed, so someone asks us for the gas, you have to switch to switch the gas, from here, is the second, here, in this way, and now you have the gas, if you find closed, we put always on the gas, ok, thank you very much.